Si chiude una vicenda dolorosa per lei, Mascia, quella dell'inchiesta sulla City. Lei è stato assolto dopo alcuni anni, quella di oggi è una giornata particolare. Sì, sono stati tre anni e mezzo difficili dal punto di vista psicologico. Questo ovviamente non mi ha impedito di lavorare, di svolgere la mia professione di avvocato e anche di svolgere attività politica. Però penso a tante occasioni perse, a tante opportunità che potevano esserci, anche queste elezioni regionali, invece io ho vissuto con la mia famiglia con grande partecipazione emotiva a questa vicenda, che finalmente si è chiusa, si è chiusa nel migliore dei modi e adesso mi dà una rinnovata carica. È stato assolto anche l'assessore della sua giunta, Marcello Antonelli. Sì, questa cosa mi fa molto piacere, mi fa molto piacere perché era un mio delegato nell'epoca amministrativa in cui abbiamo governato la città e questa è una certificazione anche di qualità del nostro operato, della nostra attività. Anche se abbiamo sempre parlato di un reato, l'abuso d'ufficio, che è sicuramente un reato minimale dal punto di vista amministrativo, ma che pur sempre comunque costituisce di per sé una preoccupazione. Invece fortunatamente con la sentenza di ieri queste preoccupazioni sono state radicalmente eliminate. Dall'11 febbraio si inizierà a pensare anche alle amministrative di Pescara, Luigi Alboremascia, si candiderà a sindaco, ci sta pensando, cosa ci può dire? Guardi, io in questi anni ho avuto grandi testimonianze di apprezzamento per ciò che abbiamo fatto nei cinque anni in cui ho avuto l'onore di guidare questa città. Questo mi dà una grande carica, mi dà un grande entusiasmo, sono consapevole che nella mia parte politica ci sono figure, autorità che possono comunque rivestire questo ruolo nel migliore dei modi, però io non mi tirerò assolutamente indietro rispetto a questa partita. L'importante è essere uniti, non compiere gli errori del passato che penalizzarono anche le ultime elezioni, penalizzarono il centro-destra e penalizzarono in maniera definitiva e inesorabile la mia rielezione. Però mi affaccio oggi con rinnovato entusiasmo e chiaramente farò la mia parte in vista delle elezioni del 26 maggio e il mio auspicio è quello di esserne assolutamente protagonista.